Ciao a tutti, vediamo dei gesti per sedere un uomo, dei gesti che una donna può fare per sedere, per coinvolgere un uomo perché vanno a comunicare direttamente con la sfera emotiva del maschio e gli generano attrazione uno è quello di toccarsi le labbra, passarsi le dita sulle labbra in questo modo ovviamente non è che deve mettersi di così, però qualche gesto mentre parla in questo modo genera nel maschio subito un'attrazione perché la bocca ha un significato particolare, la stai indicando, la stai toccando e quindi la stai evidenziando e anche un sorriso timido, ingenuo diciamo così, che ti fa sembrare, come dire, timida che ti fa sembrare non una donna navigata ma una donna comunque da sedurre, da conquistare è molto seduttivo per il maschio e anche diciamo scoprirsi i capelli, spostarsi i capelli e scoprire delle zone del corpo delle zone erogene secondarie come ad esempio il collo, questo anche coinvolge molto avvicinare la spalla al viso è un altro gesto, chiudere un po' le spalle mentre nel maschio è seduttivo aprirle perché diciamo viene espanso con il maschio alfa nella donna fare un po' di spallucci e avvicinare una spalla al viso o il viso a una spalla è molto diciamo, è molto seduttivo perché stimola una sorta di senso di protezione diciamo così e poi un altro gesto diciamo che coinvolge molto il maschio è quello di giocare con le scarpe infilare e sfilarsi le scarpe oppure evidenziare anche l'accavalamento delle gambe è comunque un altro gesto che non è che devi fare Sharon Stone però comunque sono tutti gesti che rimandano a una femminilità l'importante è che l'accavalamento delle gambe non sia eccessivo perché troppa carne scoperta poi rischia diciamo di far scattare eventuali meccanismi di squalifica per cui è giusto mettere in atto questi gesti senza parlare oppure parlando del più o del meno genera subito diciamo un come dire un senso di attrazione genera subito attrattività bene per questo video è tutto se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici ciao